Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati su Bastardi Senza Cinema in compagnia dello Zio Gamer Allora ragazzi, nel video di oggi che ho avuto possibilità di realizzare soltanto ora all'interno del canale per tutta una serie di motivi uno dei quali potrete probabilmente notare dalla qualità video che sto mostrando in questo video, probabilmente anche audio se l'attrezzatura che sto utilizzando quest'oggi mi aiuterà in tale intento, poiché appunto nell'ultimo periodo ho cambiato per l'attrezzatura in cui una parte di questo cambiamento si può notare in particolar modo nel mio ultimo video realizzato nei due canali di videogiochi per cui lavoro, ovvero quello personale dei Gaming Corner e Old New Game, ovvero un canale con cui invece collaboro di cui non sono effettivamente fondatore e che oggi appunto, in cui vado a completare appunto l'utilizzo di questa nuova attrezzatura attraverso appunto questo nuovo video che appunto ho avuto modo di realizzare sul canale soltanto ora ma di cui appunto non mi pento particolarmente proprio perché realizzare un video del genere effettivamente forse esigeva un certo tipo di qualità audio e video sotto diversi aspetti ed è una cosa che sto cercando di portare da un po' di tempo a questa parte da quando comunque mi sono reso conto che un certo tipo di qualità abbastanza bassa effettivamente che ho appunto utilizzato fino adesso per le mie precedenti produzioni non è mai stata particolarmente buono comunque a discreti livelli ho deciso quindi di migliorare un po' sotto questo aspetto questa è una piccola introduzione appunto per farvi comprendere il cambio, il perché appunto del cambio di qualità da parte mia anche se credo che fosse anche abbastanza comprensibile mi rendo conto che ci siano ancora delle cose da gestire molto molto meglio sotto questo aspetto ci sono delle migliorie effettivamente da fare, sono dei grossi margini di miglioramento ma iniziamo così e speriamo che continuando in avanti si possa migliorare ulteriormente dunque, nel video di oggi che ho appunto imbastito a dovere anche con un leggero nuovo taglio di scenografia un nuovo cambio di inquadratura pur essendo sempre nella mia abitazione ho voluto un po' dare un taglio di scenografia differente perché comunque oggi andiamo a parlare di un film piuttosto importante dal punto di vista mediatico per quanto riguarda la fine di questo anno perché stiamo parlando di un film che io personalmente attendevo particolarmente e che comunque per ciò che rappresenta e per l'universo cinematografico di cui fa parte è comunque una fetta importante del cinema di intrattenimento massificato sotto questo aspetto per le grandi masse, per il grande pubblico e quindi ci tenevo particolarmente a parlare e a dire la mia sotto questo aspetto a cercare comunque di portare un'analisi la più precisa e analitica possibile come faccio di consueto con qualunque opera cinematografica e credo che chiunque abbia capito di che cosa stia parlando seppur con un certo colpevole ma giustificato ritardo andrò qui oggi a parlare dell'ultima fatica legata alla saga cinematografica di Star Wars ovvero Star Wars Episodio 8 Gli Ultimi Jedi The Last Jedi dunque è un film di cui come ho detto volevo parlare perché è un film che attendo particolarmente ed è un'opera che mi incuriosiva molto più che altro perché volevo comprendere dopo la fine di Episodio 7, dopo la forte curiosità titillatami particolarmente da Rogue One un episodio che mi piacque, un episodio insomma spin-off che mi piacque particolarmente per la libertà artistica presa dalla base dell'universo narrativo di cui fa parte in uno stravolgimento di calorie narrativi che ho apprezzato particolarmente quindi volevo capire come questo episodio 8 si sarebbe evoluto dopo questo primo, questo inizio così particolare, così discusso tutto sommato con un episodio 7 che effettivamente per quanto rimanga un film molto valido va fatto parlare di sé per altri motivi in realtà effettivamente non si tratta di un film perfetto e mostrava dei difetti abbastanza evidenti bisognava chiaramente comprendere come questa saga avrebbe potuto evolversi e portare avanti il proprio svolgimento sulla base di un primo capitolo in questa nuova trilogia come ben sappiamo che insomma aveva dei punti fermi abbastanza solidi ma altri punti ancora da dover notevolmente migliorare ovviamente non a caso l'opera di J.J. Abrams e il risveglio della forza non è un film perfetto, non è un film particolarmente brillante sotto molti aspetti come comunque già sottolineato pur con entusiasmo nel video che io e Mr. White avremmo fatto alla fine dell'escursus sulla saga di Star Wars nella categoria dei cinecult ma continuiamo stavolta da solo in quanto appunto il mio collega Mr. White non potrà aiutarmi in questa occasione sfortunatamente e andiamo quindi a parlare di The Last Jedi insomma è un film che onestamente perdonate se lo dico così da subito ma voglio mettere in chiaro che questo film mi ha molto molto sorpreso mi ha sorpreso perché prende un distacco perché è un film che si distacca che crea un divario molto molto forte attraverso ciò che rappresenta cinematograficamente su schermo non lo fa soltanto nei cani di questa nuova trilogia ma lo fa nell'interezza dell'epopea della mitologia di Star Wars perché decostruisce gran parte degli elementi fondanti e crea qualcosa di completamente nuovo spazzando quasi completamente via a parte al di là ovviamente dello spirito di guerra estellare che effettivamente paradossalmente rimane molto di più rispetto ad un capitolo precedente che tentava invece di copiare spudoratamente i canoni dell'originale mal riuscendoci in alcuni casi mentre invece qui troviamo un'opera molto molto diversa che invece riesce nel suo intento originario è più basilare ancora di più della precedente ma andiamo per gradi perché voglio parlare di questo film in maniera particolarmente approfondita è un film che merita comunque un approfondimento non solo come parte come detto di una grande epopea cinematografica di grande valore commerciale e di pubblico ma anche comunque come film di intrattenimento a sé stante perché ha una sua validità anche sotto questo aspetto iniziamo con parlando della trama ovviamente dopo sette minuti e passa di prologo ovviamente come è giusto che sia l'altro canto con Star Wars almeno io credo che sia così dunque la trama di Star Wars The Last Jedi essenzialmente altro non fa che riprendere quanto che succedere quanto appunto successo non a caso nel settimo in episodio 7 quindi riprendendo direttamente dall'incontro finale tra insomma la nuova protagonista di questa di questa nuova saga ovvero ovvero Rey che appunto va ad incontrare un'icona importante della storia di Star Wars ovvero il personaggio di Luke Skywalker ancora una volta qui interpretato da Mark Hamill e qui effettivamente quindi da qui da questo particolare intenso momento che concludeva il precedente capitolo ripartiamo ripartiamo ma appunto ripartiamo con scoprendo alcuni altarini già molto molto interessanti che danno delle basi narrative morali e tematiche alla trama veramente veramente importanti che sicuramente donano a questa pellicola un appeal molto molto particolare dunque effettivamente scopriamo sin da subito che Luke Skywalker effettivamente è un personaggio che per via degli eventi passati effettivamente si ritrova ad essere molto cambiato si ritrova ad avere un carattere molto diverso non riconosciamo più all'interno di questo Luke Skywalker una persona un eroe un eroe buono un eroe fanciullesco un personaggio quasi idilliacamente improntato verso il bene delle persone improntato verso il fare del bene improntato verso appunto la buonazione la positività che comunque traspariva in maniera evidente dal personaggio attraverso la concezione che Lucas aveva di Star Wars e quindi il film essenzialmente anche sulla base di questo di personaggio di Luke Skywalker che viene in parte in gran parte ricostruito sotto questo aspetto basa la propria forza portante sui conflitti essenzialmente basa la sua forza fondamentale su quanto concerne effettivamente la conflittualità dei personaggi perché appunto parlando sempre dell'evoluzione della trama sin da subito Rey cerca in tutti i modi di stabilire un contatto con Luke Skywalker che d'altro canto altro non rappresenta se non uno dei simboli più importanti della cultura della religione dei geni e qui vediamo comunque il tentativo questo scontro emotivo e quasi psicologico nel tentativo appunto di stabilire un contatto da una parte e la riduttanza alla possibilità di ritornare in gioco di rimettersi in gioco dall'altra e dunque vediamo comunque una trama che una storia più in generale che si alimenta e che si essenzialmente si sviluppa alla base del conflitto e che alla fine la tematica principale del film è che appunto viene portata avanti come leitmotif come film rouge come film rouge per tutta la durata del film e in realtà mantiene comunque la sua coerenza sotto questo aspetto oltre a ciò quindi in realtà la trama del film quindi qui va rispetto invece al film precedente che era molto più classico nella struttura narrativa va invece qui a frammentarsi in tre punti di vista differenti effettivamente in cui vediamo appunto il punto di vista di Ray in cui il fulcro centrale della sua storia appartiene ad un conflitto umorale inizialmente con con appunto Luke Skywalker effettivamente e successivamente con il villain principale di questa di questa nuova saga ovvero Kylo Ren in cui poi adesso vedremo fa parte comunque anche anche Kylo Ren comunque inizialmente fa parte di una di un terzo punto di vista narrativo in cui effettivamente ci si focalizza appunto sulle ideologie del cattivo sulla sua evoluzione personale è un secondo appunto path un secondo percorso narrativo che si posiziona in mezzo che invece ci rappresenta invece un conflitto di natura bellica letteralmente in cui effettivamente vediamo protagonista principalmente tutti gli altri personaggi che abbiamo conosciuto nel film precedente ovvero principalmente Finn ovviamente che ha sempre comunque giocato un ruolo da coprotagonista da protagonista secondario che qui effettivamente ritorna ad avere una maggiore importanza per via della focalizzazione di una focalizzazione narrativa molto maggiore molto meno singolocentrica rispetto al precedente capitolo perché comunque qua viene data importanza un po' a più personaggi infatti qui la storia si insomma protrarrà con una coralità molto maggiore che effettivamente dona un certo un certo significato di senso al concetto di conflitto che comunque poi viene costruito all'interno dell'intera storia in realtà ma soprattutto vediamo comunque la presenza anche di un personaggio all'interno di questo di nuovo di questo filone narrativo di mezzo di un personaggio che apparentemente veniva dato per scontato per lasciato da parte ovvero quello di Paul Dameron che qui ritorna invece ad avere come detto una importanza molto molto interessante che viene appunto riportato in auge dalla sceneggiatura in un rimaneggio di spolvero molto simile a quello di Finn ma qui quasi con una risonanza ulteriore perché appunto Paul Dameron da personaggio secondario diventa quasi uno dei personaggi principali ad infoltire a dare corpo ad una storia che partiva effettivamente con un primo capitolo effettivamente introduttivo e che risultava quindi abbastanza embrionale sotto questo aspetto mentre invece questo secondo capitolo di questa trilogia ha modo invece di restreggiarsi su vie narrative estremamente diverse e quindi dona al tutto certamente una corposità e una compattezza narrativa decisamente diversa assolutamente seppur chiaramente essendo un po' più complesso sotto questo aspetto e quindi vediamo insomma tre tipi di conflitti differenti che poi chiaramente come spesso succede vanno a convergere in un'unica narrativa perché tutti i personaggi come ben sappiamo all'interno di questa macro storia sono ovviamente collegati quindi è interessante vedere come anche alla base del soggetto della trama che già di per sé è piuttosto intricato rivediamo sin da subito il tocco del regista e sceneggiatore di questo film ovvero Rian Johnson un regista che comunque ci aveva deliziato in passato con una commedia dark e due noir di grande importanza per il cinema del 2000 come Brick e Looper e che qui comunque ritorna a far vedere la propria mano non solo dal punto di vista della sceneggiatura della scrittura ma anche dal punto di vista visivo elemento che comunque vedremo più avanti in recensione ma ad ogni modo parlando proprio della scrittura nello specifico è interessante notare come la struttura i connotati da thriller i connotati da storia dal ritmo serrato tensivo ma anche molto riflessivo ritorni molto dal cinema dall'excursus artistico precedente dell'autore perché alla fine di questo si tratta pur avendo fatto pochissimi film è effettivamente un autore di intrattenimento Rian Johnson e qui quindi notiamo la forza della scrittura e comunque i connotati che lo caratterizzano da un punto di vista artistico sotto questo aspetto perché appunto il soggetto si basa già su una diramazione narrativa abbastanza precisa inoltre appunto la tematica del conflitto risuona molto e viene ben inserita all'interno di un contesto in cui la tensione sale di volta in volta quindi il thriller qui è strettamente presente quasi a tintenuarsi e consideriamo anche l'ambiguità dei personaggi e il loro dubbio morale per il punto che viene messo in gioco perché ripeto qui ritorniamo ancora una volta sul discorso legato al concetto di conflitto che qui rimane costante è proprio una costante all'interno del film e che permane tematicamente all'interno di ogni inquadratura di ogni scena e di ogni linea di dialogo perché comunque è Rian Johnson qui fa proprio sentire la sua forza di scrittura e palese quanta libertà artistica sia stata data a quest'autore al fine proprio di creare qualcosa di interessante creare qualcosa di molto molto personale infatti Rian Johnson ci mette del proprio ci mette veramente tanto di suo e riesce comunque a creare un'impalcatura narrativa veramente galvanizzante perché comunque si tratta di un film di intrattenimento in cui vediamo comunque una certa complessità di fondo in quanto comunque non solo ci sono queste linee narrative che in termini di rappresentazione rendono la trama meno lineare quindi molto più dinamica da seguire sotto questo aspetto ma anche l'interconnessione tra di esse molto molto intelligente e fa nascere ulteriori domande allo spettatore perché la connessione il contatto tra questi punti di vista diversi porta ad un'ulteriore complessità della storia in cui appunto l'intreccio narrativo diventa il granaggio fondamentale alla forza descrittiva della storia e ai temi che vuole trattare l'autore in questo caso e quindi è molto intelligente la struttura narrativa del film sotto questo aspetto anche perché comunque si mantiene su un ritmo veramente molto molto stabile non cala mai di tono e anche questa è una cosa che si sente particolarmente nei toni molto sovri in cui viene chiaramente sviluppato il tutto perché chiaramente Rian Johnson incubisce un po' la storia la rende anche a livello come detto anche a livello anche in termini di argomenti in termini tematici in termini di ciò che tratta all'interno del film gli dà anche uno spettro uno scope un po' più ampio perché comunque riesce a fare anche a intravedere un pensiero una sottotrama politica molto molto evidente quindi c'è comunque una forma anche di critica ad un certo tipo di dubbia moralità dettata dai poteri forti quindi insomma c'è anche comunque una forte propensione verso la critica impegnata attraverso questo film che è una cosa assolutamente inaspettata e che sicuramente giova particolarmente al film perché comunque prende appunto i canoni di qualcosa di estremamente legato ad una cultura certamente figlia di quel periodo seppur transgenerazionale e la trasforma in qualcosa di un po' più contemporaneo di un po' più moderno e questo sicuramente è ciò che rende il film molto molto più interessante un'altra idea che secondo me esprime molto bene in termini appunto di rappresentazione quindi di messi in scena in realtà anche perché ripeto di questo parleremo più avanti le tematiche per l'appunto è la scrittura dei dialoghi che a mio avviso diventa veramente eccezionale di volta in volta e la scrittura dei dialoghi migliora con il passare della pellicola ed è veramente eccezionale questa cosa qui questo succede soprattutto perché all'interno del film viene a crearsi soprattutto centralmente una dinamica molto particolare in cui Rey Luke Skywalker e Kylo Ren vivono letteralmente durante tutta la seconda parte del film e una piccola parte della prima effettivamente un piccolo per la porzione della prima un vero e proprio triello emotivo un vero e proprio sconflitto mentale che affascina sotto diversi aspetti perché viene reso accattivante attraverso appunto questa scrittura di dialoghi dalle sfaccettature innumerevoli in cui appunto il dialogo sottintende a sua volta un contatto mentale molto più profondo di ciò che si pensi ed è molto interessante perché comunque è un film che riesce anche attraverso l'utilizzo intelligente della scrittura del montaggio alternato comunque di tutta una serie di elementi interessanti riesce a costruire un'impalcatura di sottostrati tematici molto interessanti che rendono quindi questo film di intrattenimento non un mero blockbuster nudo e crudo ma qualcosa di qualcosa capace di essere letto su più punti differenti su più piani di lettura diversi ed è secondo me molto molto interessante ovviamente è chiaro che questo film vive principalmente e nutre si nutre della propria forza è quasi il caso di dirlo attraverso la sua essenza all'interno il suo essere all'interno dell'universo di Star Wars e qui acquisisce molta forza però a mio avviso riesce ad essere completo e molto molto godibile anche come film a se stante perché riesce comunque ad un certo punto a narrare qualcosa di assolutamente nuovo assolutamente impermeabilmente personale in realtà riesce in alcuni punti persino a funzionare come opera a se stante e questa è una cosa assolutamente difficile da realizzare soprattutto su delle basi classiciste come quelle appunto improntate come già detto poco fa dall'episodio 7 che ovviamente impostava il tutto con una insomma con una elaborazione di idee molto molto classica molto molto quadrata e che indubbiamente si diversifica molto attraverso questo episodio 8 sotto questo aspetto quindi ho apprezzato la scrittura per tanti motivi diversi in realtà e uno di questi è proprio la capacità di costruire un labirinto abbastanza complesso in cui il concetto di moralità poi soprattutto viene a galle in maniera molto molto efficace e viene trattato in maniera estremamente intelligente ed acuta perché appunto per ogni personaggio avviene una scrittura una caratterizzazione comunque un approfondimento descrittivo molto molto particolare passando dai personaggi principali a quelli secondari che vengono tutti trattati vengono più o meno tutti trattati con lo giusta con il giusto peso effettivamente dato che come ho detto qui si tratta di una storia più corale rispetto al passato riecheggiando quasi quanto fatto con Rogue One precedentemente insomma vengono mano a mano nel corso della storia ricominciano ad emergere tutta una serie di altarini di contraddizioni morali che rendono i personaggi estremamente complessi che comunque contribuisce anche ad apportare dei miglioramenti a qualcosa che effettivamente ancora mancava alla saga come per esempio un buon approfondimento del Dylan principale perché effettivamente Kylo Ren qui proprio grazie a questo approccio alla scrittura risulta essere molto più complesso risulta essere molto più particolare rispetto al passato perché rompe dei canoni effettivamente diventa un personaggio quasi difficile da catalogare e ogni personaggio ha una complessità tale da essere difficilmente categorizzabile in quanto tale ed è molto molto interessante secondo me questo aspetto della pellicola perché pare quasi trascendere il genere pare trascendere l'effettivo genere della space opera e diventa veramente un thriller molto molto un thriller d'azione certamente un thriller di trattenimento dal grande ritmo ma indubbiamente dalla grande riflessione sociologica e personale in realtà ed è secondo me un punto a favore veramente alto per questa pellicola che ripeto poi pone anche in essere alcuni pensieri filosofici attraverso l'interazione tra i personaggi che per quanto non sempre approfonditi comunque donano una profondità e comunque un riempimento tematico maggiore che sicuramente aumenta la credibilità effettiva del film che è un film comunque serissimo un film serissimo dall'inizio alla fine dai toni particolarmente crepuscolari effettivamente che quindi anche qui anche attraverso questo abbandona quasi completamente praticamente del tutto i toni fanciulleschi che avevamo visto in passato in un finale anche che ovviamente non voglio spiegare per non rovinare in alcun modo l'esperienza del film ma che comunque nonostante sia un finale positivo lascia un certo tipo di di malinconia non c'è mai una vera risoluzione della storia proprio per via del peso quasi letterale anche talvolta che ricade su tutti i personaggi e che continua ad aumentare nel corso di tutta la pellicola e quindi vediamo comunque un incedere quindi della narrativa che attraverso la moralità dei personaggi raggiunge dei grandi livelli di epicità sotto questo aspetto e quindi è molto interessante analizzare il tutto sotto questo punto di vista ovviamente perché Rian Johnson riesce ad equilibrare perfettamente ogni aspetto riesce comunque ripeto ed è una cosa difficilmente fattibile difficile molto difficile da eseguire ovvero ammaestrare perfettamente l'autorialità di certe tematiche a quello che concerne invece il cinema di puro intrattenimento perché d'altro canto effettivamente è proprio di questo si tratta e il perfetto bilanciamento tra le due cose rende questo The Last Jedi soprattutto dal punto di vista della scrittura un film veramente strabiliante con comunque delle riserve chiaramente perché detto ciò nonostante sia un film assolutamente di ottima di integerrima qualità oserei dire non è chiaramente un film perfetto anche in termini di scrittura dato che ne stiamo parlando risulta avere qualche defezione sicuramente in quanto innanzitutto possiamo notare molto facilmente come per esempio tutta la prima parte della storia effettivamente risulti essere molto lenta in una lentezza che però risulta essere un po' detrattiva rispetto appunto all'evoluzione della storia e inoltre appunto nella prima parte si possono notare i maggiori difetti di sceneggiatura perché appunto proprio per andare a coincidere per andare a far coedere tutti i pezzi effettivamente la prima parte del film soffra di molteplici forzature logiche e soprattutto dal punto di vista logico quindi più che altro nel contesto narrativo generale che vengono appunto tutta una serie di forzature che vengono utilizzate da parte della sceneggiatura stessa al fine di insomma riunire tutti i punti narrativi quindi effettivamente è vero che tutta la prima parte del film ovvero quella appunto dedicata principalmente alla costruzione della storia stessa risulta essere effettivamente molto non molto farraginosa ma abbastanza zoppicante in alcuni punti più che altro per alcune ripeto per alcune semplificazioni di determinati meccanismi narrativi atti proprio ad arrivare al proprio al culmine della costruzione narrativa principale prima del suo sviluppo essenzialmente quindi insomma c'è una prima parte di film che appunto oltre ad essere come detto appunto un po' fallace dal punto di vista della continuità logica ha anche una certa lentezza di fondo non tanto nel ritmo in sé che rimane piuttosto stabile come detto dall'inizio alla fine ma si parla proprio di lentezza per l'appunto nella concretizzazione dei meccanismi narrativi della comprensione più che altro di cinematografico ovviamente non da parte dello spettatore si intende all'interno appunto della logica cinematografica del film e quindi insomma c'è questa prima parte che effettivamente pecca un po' di alcuni elementi e ci sono anche altre piccole cose che tendono a funzionare meno rispetto ad altre alcuni altri piccoli elementi a cui appunto magari si è data meno attenzione c'è un leggero squilibrio in alcuni punti basti pensare per esempio alla sottotrama romantica che coinvolge principalmente il personaggio di Finn e che giusto per fare un esempio appunto parlando di questa sezione narrativa specifica effettivamente quest'ultima risulta essere per esempio molto forzata inutile ai fini dell'approfondimento tematico dei personaggi certamente funzionale in piccola parte allo sviluppo narrativo chiaramente ma all'interno dell'insieme del contesto cinematografico e dello sviluppo narrativo centrale certamente risulta essere abbastanza futile sotto questo aspetto quindi da più assume quasi connotati di un riempitivo sotto questo aspetto e questo sicuramente non dona enorme coesione sotto questo aspetto se parliamo proprio di questo elemento nello specifico e quindi insomma ci sono effettivamente alcune fallaci come detto alcune sottigliezze effettivamente che funzionano meno all'interno del film non si può dire che ci sia effettivamente qualche elemento effettivamente sbagliato totalmente disfunzionale all'interno del film ma certamente è presente tutta una serie di elementi che dal punto di vista strettamente logico più in generale tendono a funzionare un po' meno un blockbuster di intrattenimento che comunque nonostante una una grossa la grande capacità di trasmettere di insomma di discernere e di trasmettere il proprio cuore pulsante allo spettatore tende a mancare in alcune piccolezze ma ripeto si tratta di elementi non solo relativamente irrisori all'interno della valutazione generale del film ma comunque di difetti che per quanto evidenti e per quanto comunque effettivamente riescono ad allontanare di qualche gradino effettivamente questo film dall'eccellenza assoluta non influiscono a tal punto sulla qualità e comunque ripeto vengono in parte smussati anche da una seconda parte del film che sicuramente attrae lo spettatore lo aggancia alla storia lo trasporta con entusiasmo e con forza con coraggio fino alla fine perché comunque bisogna considerare che anche i difetti presenti all'interno del film per quanto tali ed evidenti sono effettivamente ben contestualizzati in realtà all'interno della mappatura logica e contestuale all'interno del film e per quanto talvolta come detto quasi contrariamente a talvolta tendono a risultare abbastanza farraginosi sotto diversi aspetti in realtà comunque risultano relativamente ben contestualizzati e quindi vengono smussati insomma dall'universo di cui fanno parte quindi è anche questo uno dei motivi per cui dico che Star Wars gli ultimi Jedi effettivamente vive di grande potenza e assume a maggior valore se comunque collocato all'interno del giusto contesto chiaramente anche se continua a rimanere dell'idea che comunque continui a funzionare anche come opera a se stante in diversi punti sicuramente ma chiaramente non finisce qui la nostra analisi perché chiaramente oltre nell'insieme di elementi positivi e rintracciabili all'interno del film possiamo ritrovare oltre alla buonissima scrittura anche una regia veramente veramente da manuale perché effettivamente tutto il comparto tecnico è veramente degno di nota e anche in questa occasione riemerge fortemente riemergono fortemente gli stilemi visivi ed estetici tipici di Rian Johnson che qui invece in questa occasione ci offre una regia in realtà molto meno elaborata probabilmente dal punto di vista della composizione dell'immagine o comunque meno di quanto si era visto per esempio in un episodio 7 che si forgiava della regia brillante accattivante sgargiante di Abrams che puntava parecchio sull'estetica per attrarre appunto a sé lo spettatore per catturarlo anche dal punto di vista visivo mentre invece qua dato anche i toni crepuscolari i toni un po' più cupi e dato anche il cambio di registro comunque che viene adottato anche dal comparto tecnico la regia diventa molto più essenziale e quindi molto più vicina a quanto aveva fatto comunque in passato Rian Johnson perché partendo proprio dagli elementi più primitivi dagli elementi più insomma appunto come detto più basilari della regia ovvero l'utilizzo della macchina da presa per esempio giusto per fare un esempio qui in questo frangente vediamo sin da subito il lavoro di Rian Johnson vediamo proprio uno stilema molto visibile che comunque si può scovare riscontrare all'interno di molteplici utilizzi della macchina da presa come per esempio i movimenti di macchina estremamente rapidi con queste panoramiche a schiaffo che rendono dinamica l'azione ma allo stesso tempo riescono abilmente a spostare molto bene l'attenzione da un concetto all'altro attraverso dei movimenti di macchina all'interno dello stile all'interno dell'uso stilistico della cinepresa molto molto preciso sempre molto chirurgico e infatti non a caso la regia di Rian Johnson non sbaglia un'inquadratura non sbaglia un colpo e risulta veramente efficace nella sua essenzialità che però risulta essere accattivante più che dal punto di vista estetico dal punto di vista della resa stilistica più cruda più pure e cruda essenzialmente perché appunto Rian Johnson punto su una quadratura molto più specifica in realtà però sempre con una ricerca dell'immagine in movimento sotto questo aspetto ed è proprio un maestro muovere l'immagine Rian Johnson sotto questo aspetto perché comunque ha pur sempre una composizione dell'immagine molto molto precisa che è quasi sorprendente perché nonostante come detto il ritmo particolarmente sostenuto in diverse fasi in realtà ogni immagine riesce a essere molto chiara e qui riecheggia un certo palmare una certa formazione quasi da cineasta d'azione sotto questo aspetto un cineasta che utilizza l'azione in maniera semanticamente intrinseca alla scena in cui appunto si studiano le intenzioni anche attraverso la regia che quindi rende ogni azione dei personaggi anche attraverso il visivo molto molto più importante più gravosa nelle spalle di ogni inquadratura che quindi viene resa sempre più inesorabile sotto questo aspetto e quindi insomma l'utilizzo della cinepresa di Rian Johnson è tanto evidente perché comunque l'utilizzo come detto della macchina da presa con questi movimenti estremamente rapidi con questi piani sequenza funambolici con queste zoomate e dolli particolarmente repentini che hanno da sempre caratterizzato il cinema di Johnson e che qui ripeto ritorna in maniera estremamente fedele riescono comunque a rimanere estremamente riflessivi al momento giusto perché comunque Johnson sa dosare gli stilemi di regia sa utilizzare bene i tempi registici i tempi del montaggio cose di cui effettivamente anche parleremo perché è una componente importantissima del film in questo senso e dunque abbiamo tutta una serie di cose interessanti ripeto con una regia molto evidente ma che sviluppa la sua forza con un filo sottile di maestria che si mostra seppur in maniera trasparente quasi invisibile allo spettatore e Ryan Johnson è un mago effettivamente a fare questo perché riesce ad inserire tanti piccoli elementi di vitale importanza all'interno dell'inquadratura e rendere questi ultimi elementi capaci di dare forte valore al comparto tecnico della propria opera senza essere necessariamente così tanto evidenziati come lo è l'organo centrale della regia essenzialmente quindi riesce molto bene a Ryan Johnson ancora una volta a gestire questa particolare dicotomia di cui pochi registi sono capaci effettivamente di cui effettivamente ha fatto un grande punto di forza nonché appunto uno stilema molto molto riconoscibile e che sono contento di vedere anche qui anche all'interno di Star Wars perché effettivamente si tratta di un si tratta di scelte registiche che anche in questo caso sono ben contestualizzate hanno un loro criterio hanno un loro senso hanno la loro fluidità hanno una loro contestualizzazione estremamente precisa e vedere che comunque lo stesso Johnson sia riuscito a portare avanti una propria visione personale di cinema anche all'interno di un contesto come questo può fare soltanto piacere perché soprattutto contribuisce a rendere Star Wars e gli ultimi Jedi un'opera ancora più personale in realtà cosa praticamente inaspettabile all'interno di una saga di grande consumo come Star Wars e per questo dico che secondo me Star Wars e gli ultimi Jedi è sorprendente per diversi motivi ma non è finita qui perché anche il lato tecnico ha altri punti da approfondire basti pensare come ho detto anche poco fa al montaggio per esempio il montaggio assume una forma significante molto particolare all'interno del film perché scandisce molto bene la regia e questo è proprio una delle funzioni basilari ovviamente del montaggio cinematografico ma qua assume un'importanza una rilevanza ancora maggiore cioè dall'essere uno strumento rudimentale che agisce in favore di una funzione rudimentale in realtà diventa evoluzione della storia perché il montaggio come intuibile anche da come vi ho descritto la trama precedentemente è fondamentale per alternare in maniera adatta ogni elemento della storia essenzialmente e il montaggio in questo senso deve avere la capacità di equilibrare perfettamente e rendere importante sotto una linea molto costante il proprio il proprio numero di elementi messi in gioco messi in scena dal film e il montaggio lo fa perfettamente adottando anche qui delle soluzioni molto simili a quello che si vede in regia quindi un montaggio talvolta funambolico fulmineo tagliente ma sempre seriamente armonico quasi musicale oserei dire in senso lato ovviamente se parliamo chiaramente di questo aspetto del montaggio video ovviamente e questo è molto interessante perché il montaggio in questo senso aiuta molto e questo è un altro elemento interessante a dare ulteriore valore e forza stilistica importante alle inquadrature perché il montaggio riesce sempre a creare un ponte di comunicazione interessante tra un'inquadratura e l'altra indipendentemente dal contesto dal dal micro contesto in cui si trovano le diverse sequenze quindi Rian Johnson riesce ad ammaestrare perfettamente tanti elementi diversi e ad unirli assieme attraverso appunto un'armoniosa unione un fil rouge dettato dal montaggio che equilibra perfettamente la storia e la rende estremamente godibile perché appunto il montaggio infine detta i ritmi detta i ritmi narrativi che rimangono fantastici dall'inizio alla fine perché ripeto nonostante una prima parte in cui tutti questi elementi stilistici interessanti vengono meno sono meno visibili per via di una di una di una prima accelerazione della storia un po' zoppicante poi nella seconda parte diventano elementi importanti perché tutto si sblocca e diventa finalmente qualcosa di armonico e qui il film il montaggio in questo caso diventa grandioso sotto questo aspetto peraltro ripendendo chiaramente tutte quelle tecniche di montaggio quella filosofia del montaggio quasi basilare con alcuni riferimenti quasi al montaggio analogico di Eisenstein qualcosa di assolutamente qualcosa di concettualmente quasi impossibile da vedere all'interno di un contesto ripeto come Star Wars ma che ho notato in alcune sequenze molto specifiche per esempio basti pensare alla sequenza in cui viene effettivamente ritratto un apparente astronave del primordine atterrare quindi venendo inquadrata dal basso e nel montaggio successivo nel taglio di scena successivo vediamo che in realtà si tratta di un semplice ferro da stiro in realtà e quindi qui vediamo come il montaggio crei anche la filosofia della scena perché crea e ne sistema e ne gestisce i toni il montaggio viene utilizzato per creare tensione per creare comicità per creare ilarità per creare azione e quindi per questo in tutti questi aspetti il montaggio riesce a muoversi perfettamente tra queste fila modulandosi a seconda di come di cose il film richiede dal punto di vista della scrittura adattandosi a ciò che succede ma allo stesso tempo adottando comunque una propria personalità molto molto forte capace di dare un valore aggiunto all'intera pellicola è così è così che si gestisce il montaggio di un film è così che si gestisce il collante tra una sequenza e l'altra un po' come diceva Hitchcock appunto parlando del montaggio per l'appunto in cui deve essere presente un'armonia di vitale importanza che è essenzialmente quella che dallo scheletro dallo scheletro e la linea guida principale al film ed è per questo che il montaggio risulta essere quindi eccezionale sotto praticamente ogni aspetto e poi chiaramente anche tutto tutto ciò che concerne il resto del comparto tecnico ovviamente è riuscitissimo la colonna sonora di John Williams per esempio per quanto non ricalchi più le sonorità epiche pompose del passato perché comunque anche qui vanno ad adattarsi a delle sonorità con note più basse molto più più coupe quasi più silenziose sotto un certo aspetto perché appunto la musica non assume più un ruolo di preponderanza all'interno della scena non diventa protagonista ma diventa un sottile accompagnamento ma che proprio per questo assume una grande efficacia in maniera sempre coerente con la filosofia del film stesso e quindi dunque anche qui abbiamo un utilizzo anche del sonoro come sempre eccezionale le battaglie spaziali sono sono pesanti ogni suono che sentiamo ha un suo peso enorme all'interno della storia contribuisce a creare il contesto sonoro e uditivo per l'intera narrazione insomma Star Wars The Last Jedi è un film curatissimo sotto praticamente ogni aspetto ripeto non senza difetti quindi concludendo qui più in generale l'intera analisi del film che tenevo particolarmente a fare per quanto mi riguarda Star Wars The Last Jedi è un grandissimo film un ottimo film di intrattenimento e uno dei più riusciti degli ultimi anni per quanto mi riguarda pieno zeppo di sequenze piuttosto memorabili tematiche molto interessanti come quelle che appunto abbiamo affrontato in precedenza durante la recensione ma anche tante piccole altre cose tanti altri piccoli elementi da scovare all'interno del film perché comunque come detto ha una profondità narrativa e visiva come detto veramente eccezionale quindi insomma Star Wars The Last Jedi è un film pieno un film pieno di contenuti un film pieno di amore per il cinema e un film pieno di amore per l'universo di cui fa parte è che proprio grazie a questo amore che si spinge oltre ai canoni classici reinventandosi e reinventando appunto il canone della space opera in realtà a mio avviso perché Star Wars The Last Jedi sotto questo aspetto proprio grazie al alla saga all'universo all'entità che non che le ha dato ulteriore vigore dopo ovviamente se non consideriamo il capolavoro assoluto di 2001 di 6 nello spazio di Stanley Kubrick che però fu un capitolo a parte nella storia del cinema e che va quindi che va e che comunque va considerato qualcosa di molto molto più ampio e differente da una mera space opera parliamo di Star Wars The Last Jedi che è effettivamente un film di grandi intenti di grandi intenzioni e che sicuramente riesce a trasmettere con grande forza sicuramente e sono contento di aver visto questo film perché è da discutere soprattutto perché è un film che comunque fa riflettere è un film un film dai grandi spunti riflessivi e anche decisamente non banali per quanto per quanto mi riguarda evolve una propria personalità riesce a stagliarsi ripeto quasi nell'Olimpo delle opere cinematografiche legate appunto al genere della space opera perché appunto ne rivede diversi canoni per quanto mi riguarda non raggiunge forse i livelli di audacia raggiunti in passato con un capolavoro come Serenity chiaramente non siamo probabilmente a quei livelli ma questo film ci va estremamente vicino perché ha comunque la stessa volontà di sfondare determinate più che altro decostruire determinati preconcetti in maniera anche voluta in maniera molto molto palese ed è per questo che è un film a mio avviso anche molto provocatorio sotto questo aspetto e quindi insomma è un film riuscito su parecchi livelli e consiglio assolutamente la visione dello stesso proprio perché Rian Johnson ha avuto il coraggio di fare qualcosa di non strettamente deliberato perché sarebbe stato molto semplice creare un'opera deliberatamente provocatoria senza una propria ossatura attorno ma qui fa qualcosa di più qui c'è veramente un'opera di grande impegno e di grande forza ripeto narrativa descrittiva visiva tecnica e soprattutto concettuale che alla fine è come detto il nocciolo portante dell'intero film e quindi concludendo questo è un film veramente incredibile quindi detto questo fiume di parole in merito al film che spero effettivamente vi sia piaciuto vi chiedo quindi di farmi ne approfitto per chiedervi di farmi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate del film di cui abbiamo appena parlato e che cosa ne pensate della recensione sarà decisamente interessante discutere di questo film perché comunque si tratta proprio anche per la sua natura piuttosto provocatoria di una pellicola comunque che ha fatto particolarmente parlare di sé per via proprio della sua natura audace ha praticamente diviso ha spaccato in due l'opinione del pubblico più che della critica che invece si è trovata piuttosto unanime in un giudizio molto vicino al mio a dire la verità ed è una cosa di cui sono particolarmente contento ovviamente ma spostiamo le opinioni qua sotto nei commenti approfittiamo per parlare di questa pellicola perché è qualcosa che veramente ho apprezzato molto detto questo chiusi questi preamboli direi che possiamo definitivamente salutarci da questo video e darci appuntamento ovviamente ad un prossimo ciao a tutti ciao a tutti Grazie.